Ogni discussione è lecita, è possibile, ma oltre un certo limite non bisogna andare, quindi ogni azione che attraverso la sua legittima proposizione di una legittima critica in realtà cela, una riproposizione di un forte sentimento antisionista e antisemita va rifiutata da tutti, tutti coloro i quali hanno responsabilità politiche, culturali, divulgative, debbano veramente ritrovare ogni forza possibile per manifestare una nettezza rispetto a questo.